E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video Oggi sto giocando a Brookhaven con due dei miei fan Uno è un mio fan che dice che sono la sua youtuber preferita E l'altro invece è suo fratello Gli dico che è incominciato il video E' incominciato Inciato il video E' incominciato il video E' incominciato il video Gli dico che è incominciato il video mamma mia Volete fare una gara delle macchine? La gara delle macchine Nel frattempo loro scrivono Ciao raga Ciao raga Volete fare una gara delle macchine? Mondo interrogativo mille volte Che bello Giù Non ho capito niente di quello che hai detto Vabbè Volete fare la gara? What? Ti ho detto Volete Ah ok lui ha detto va bene Gara di macchina si Sium Già da sium si vede che tu ami Cristiano Ronaldo Comunque procediamo Andiamocene via Io prendo la mia macchinina Vroom vroom Ovviamente siccome gli altri C'è loro due Penso che Ah ok Penso che non hanno Sara Sei peggio Comunque Comunque Penso che non hanno Il triciclo Ritching Per le macchine Quello là Quello Pro Quindi metto questo qua Devo mettere il cestino Perché già ho messo Mi ho messo uno Ok Metto questo E andiamocene di qua Sperando che mi seguano Allora 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 Un attimino Vediamo un pochino Come sono messi loro Metto anche il fuoco Mi faccio Mentre loro Allora Sara Ok Sara c'è No No Allora Sara non devi partire Sara non partire Sara non partire Attenta Sara Sara Ferma Allora Mettiamoci tutti No 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 3 2 1 Dico Dice Lei Il Via E muovete Yuko Aspettiamo che scrivi Via 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 Vabbè Via Lui sta usando 200 20 Mamma mia Sara Sara Accorcio 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 Sperando che non sia arrivato Nessuno Perfetto Io Lo so che Ho barato Però Mi sono fermata Quindi Vinto Vabbè Gli scrivo che ho vinto Dove è Dove è ora suo fratello Dove è suo fratello? Dove è suo fratello? Dove è suo fratello? Se no Non capisco Dove è suo fratello? Tuo fratello Dove è tuo fratello? Dai Oh mio dio Si è perso Si vede Ma No Quindi non fa Quindi Non fa La gara Con Noi Giusto? Quindi non fa La gara con noi Giusto? Ma sta ancora nel video E allora dov'è? Boh Io vero Oh mamma mia Allora Tre Due Uno Uno Via Oh 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 Wow 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 No Sara Accorcia 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 Questo è perché non bisogna mai farla a 200 di velocità Vinto Vinto Devi vantare È inutile Perché può essere anche Che tu nella prossima gara Sarai terza Quindi Può essere che la prossima sarà l'ultima Allora Non ho capito Ah Franci via Ma ha incominciato da solo Sarra Oh Oh Ma ha detto lui il via Ed è partito prima Non vale È partito prima Ma poi ora Basta Si fa sul serio Si gira di qua Mmm Ma perché non mi saluti Boh Sta parlando con il suo amico Penso Boh Non ci sto capendo niente Comunque Prima Aspetta 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 Io seconda allora Basta Ok Mi posiziono Allora Ma sarà Bari Bari Tu Bari Allora Sara Ma Ma No amore Ma che No invece Allora perché non sei passato accanto a me Ah 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 Allora perché non sei passato accanto a me Io ho fatto tutto il giro completo Io sono più veloce Ma se nemmeno hai la velocità 200 Io ce l'ho a 200 Ce l'ho Allora 3 2 1 Parti 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 Hai se il disco Io sei parti Il disco E se il disco Io sei parti Disco Disco Parti Parti Vedi 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 Lei barra Lei barra Lei barra Raga guardate Lei barra Sara Bara Bara Ciro Dove sei Ciro 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 Dove sei Ciro Ma l'altra è rimasta 4 ore Ciro Seconda Ma se nemmeno ti sei mossa e dici che sei prima Ma tu se nemmeno ti sei mossa e dici che sei prima Ah ma sei tu Ah ma io pensavo che era qualcun altro Allora Allora Mandiamogli lui l'amicizia Vediamo Sara accetta No lei non si chiama Sara Non si chiama Sara Ma si chiama Sara Si ma si chiama Sara Bianca Sara No sono Sara Please Allora 3 2 1 Sara Torna indietro Aspio Ciro No no io non mi muovo Ora io dico che sono Prima Ok Prima Aspettate qua Vincenzo sei top Basta Sara Guidi come me No 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 Io sono scioccata Da Sara Io sono scioccata da Sara Veramente Magno un Ciro Gli da un pugno Aia frate Aiuto Che dire Aspettiamo a Ciro Nel frattempo gli scrivo Gli scrivo Ciro Ciro Vieni Ciro Vieni Ciro Vabbè facciamo la gara Io soltanto io e te Vincenzo perché con te Vabbè 3 2 Oh 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 Ah più ma Allora 3 1 Via No 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 Stop 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 Indietro 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 è inutile, no no non vale non vale, dai mannaggia basta non so guidare ok lo ammetto alla velocità 70 va bene ma 200 no ma non parliamo di Sara veramente che Sara va a finire nella piscina rimane là, poi appena mi vede passare subito esce dalla piscina non parliamo di Sara che poi va anche al mare si butta nel mare raga Giulia che c'è? che vuoi? che c'è? che c'è? che c'è? Giulia dormi che c'è? aspettiamo il migliore è Vincenzo Sara basta è bello stare con te bello 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 wow che bella la scrittura è bello stare con te nel video lo so che dire il video finisce qui video finisce qui Vincenzo no Vincenzo se ne sta andando allora posso cosa posso cosa posso cosa non ho capito niente di quello che hai detto posso cosa sta con te eh no Vincenzo vampiro comunque il video finisce qui ci vediamo domani con un prossimo video saluta i fan saluta i fan aspettiamo Sara pure tu devi salutare Sara Sara no 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 Sara arrabbiata sono con te io addios a un prossimo video Sara ma tu sei peggio nella scrittura ti chiami Roblox Games sì lo so grazie di avermelo detto comunque saluta i fan che il video che il video finisce qui oh Sara santa ian che il video finisce qui qui santa ian saluta 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 tu Ciro Ciro tu devi salutare adios Guiz è bello comunque ciao ok ciao raghi ciao no Sara no ciao